Calcio d'angolo, un calcio anche nel Livorno, il primo al ventesimo entrato è la centrocampista danese Bergvodo è uscito Diamanti che rientrava oggi dopo tre giornate di assenza per un problema alla piede sinistro Calcio d'angolo per il Livorno, 22-28, Brescia 1, Livorno 2, ancora Rimedi ancora e vediamo se è possibile ripristinare il collegamento con Vicenza, Russo Ma va va va, buon Vicenza, ma va, muracchi d'amore Ma ma non è la passività Oh, guarda che vedi, quando il giugno pure lui è un bestemnista Il giugno che fa venuto, ancora Inquanto il giugno di gioco ancora zero, Empoli 1, nell'Empoli-Rocco Sabato, nelle ultime stagioni impegnate dal Ilberno-Tinistro Oggi benissimo, nel ruolo di centrale difensivo in attesa Sotto contemporary, il polacco impegnato con la sua nazionale Da vedi, 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 vedi Vedi un curloneggio questo Cristo, vedi, vedi Ventiquattresimo di gioco, il Velkonero, ancora zero Non è la passività jeugno dove si gioca da 26 minuti ehi ah ma perché non vuoi stiamo ogni domenica lo vediamo con la squadra il gol ora il doppio del Vicenza fuori schieni ha bloccato grazie Russo dicevamo del nuovo vantaggio con Gorgoni al ventunesimo minuto Gorgoni è carentato al oh ehi ah ah ehi ah ah ma che cosi ehi ah Attention lo celebrato meet cy deal portiere della frosidone Jacopo di nunca parla di jesu aurait no ahh ah 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 chi è ? Etsio bapain jiu tattoos bee come fa decisionate alla retroguardia delle clienti